Siamo in compagnia di Giulia Iapichino, lei è stata appena eletta all'interno del nucleo di valutazione dell'Università di Messina e per la prima volta a ricoprire questo ruolo è una ragazza. Per i prossimi due anni sarai uno dei componenti del nucleo di valutazione, è fra l'altro l'unico studente. Sì, esatto, sarà veramente un ruolo, una grande responsabilità per me. Chiaramente il nucleo di valutazione è la carica più ambita per uno studente. Ma esattamente cosa fa il nucleo di valutazione? Dunque il nucleo si occupa di verificare, analizzare la produttività della ricerca, dell'attività didattica dell'Ateneo, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Tu vieni da Vittoria, sei arrivata a Messina per studiare cosa? Adesso sono iscritta alla specialistica di scienze storiche, società, culture e istituzioni d'Europa. Giulia, gli studi che hai intrapreso sono sicuramente impegnativi, come lo sarà anche il ruolo che andrai a ricoprire? Come pensi di conciliare le due cose? Beh, chiaramente mi organizzerò in qualche modo e si farà. Del resto mi piace partecipare attivamente alle attività dell'universitario, che non sono solo quelle di studiare, insomma fare esami, ma anche partecipare attivamente nel migliorare il sistema universitario. E il nucleo è veramente uno strumento importante per lo studente. È stata una grande emozione raggiungere questo traguardo, insieme alla mia squadra, alla mia associazione Orum, con l'aiuto di tutte le altre associazioni che mi piacerebbe citare, Geo Universitas, Università Eclettica, Messina Giovane, Nettuno e Uninsieme. Mi auguro di poter ricoprire questo ruolo in maniera molto responsabile, cercando di utilizzare questo strumento per migliorare quello che è il sistema universitario, in questo momento particolare, dell'università.